E questa è la sala delle udienze del Palazzo Reale di Genova. Fu realizzata anche questa negli anni 40 dell'Ottocento, i lavori furono previsti già da Carlo Felice ma tutti finiti sotto il regno di Carlo Alberto che infatti li firmò. Si vede il suo monogramma, la C e la A sormontate dalla corona, sia sulla volta sia su tutti gli arredi della sala. Qui quindi si alternano stucchi sulle volte, grandi lampassi sulle pareti e arredi realizzati da Henry Peters. Il pavimento in legno ripete un po' la moda, il gusto sabaudo di quel momento e i pavimenti della reggia torinese. Sicuramente in questa sala bisogna citare uno dei quadri più importanti della collezione del Palazzo. È questo grande ritratto a figura intera, è Caterina Balbi Durazzo dipinta da Antonio Van Dyck nel 1624. Antonio Van Dyck fu celebre soprattutto per i suoi ritratti e nei suoi anni giovanili ritrasse gran parte del patriziato genovese. Tra cui questo meraviglioso quadro che ritrae una delle ave dei proprietari del palazzo. E sicuramente, come ho detto, quadro simbolo della collezione del Palazzo Reale di Genova. Grazie a tutti.